L'obiettivo principale del bilancio è il rilancio della città, nonostante i vincoli che ancora abbiamo, 2 miliardi e 8 di debito finanziario, 2 miliardi e 2 di disavanzo, ma questo non ci bloccherà. La città ha bisogno di ripartire, abbiamo messo molte risorse sugli investimenti, sia investimenti provenienti dal PNRR, sia però anche investimenti propri. Quelli del Comune sono quasi tutti dedicati alla manutenzione della città, dando molto spazio alle municipalità. Non c'è nessun aumento di tasse, non c'è taglio di spesa e assumeremo mille persone alla fine di quest'anno. Quindi è la vera svolta che ci si attendeva e da questo si riparte. Sono soddisfatto perché il contesto era un contesto molto difficile, siamo partiti 8 mesi fa, nelle condizioni che sappiamo. Poi abbiamo realizzato il patto per Napoli, il governo ci ha aiutato, che ci ha evitato di andare in posizioni di sesto. Però costruire il bilancio è stata un'operazione complicata e voglio ringraziare tutti gli uffici che ci hanno aiutato perché con questo bilancio noi diamo il segno di quello che vogliamo fare. Qui a questo punto di vista io sono molto soddisfatto. Non mi nascondo la strada che abbiamo davanti e qui bisogna rivolgerci ai cittadini innanzitutto. I veri alleati del risanamento della città sono coloro che poi ne godranno. Ecco perché noi abbiamo bisogno anche di recuperare un po' sull'evasione fiscale, abbiamo bisogno di migliorare il patrimonio. Ieri abbiamo lanciato un piano triennale per la cessione a chi ci abita, ai residenti, degli immobili ERP a condizioni agevolate. Abbiamo lanciato la rivisitazione, la riforma del piano urbanistico e un ufficio di conciliazione. Nei prossimi tre anni tutti coloro che vogliono regolare la loro posizione vengano, vengano in comune, troveranno accoglienza, troveranno gli uffici disponibili. Tutto questo è anche un segno di come pensiamo che debba essere il rapporto tra il comune e i cittadini.